Allora, chiediamo un parere a Geronimo di quel che ha fatto fino ad ora. Sì, lui ha detto, vamo fare una passeggiata in spiaggia, siamo in... Piazzano. Piazzano, tu avevi detto che saresti voluto... Pazzesco. Cosa? Una pazzesca. Una pazzia, ha deficiente. Pazziano, pazzo, pazzo, paziano, che significa questo? Se sei pazzo, vado a portare qua. E beh, che vuoi fare? Vuoi tornare indietro? Sì, vado a portare indietro. Allora, vado. Dopo, dopo. Ah, dopo, vedi? Dopo, perché manca ne poco. Manca poco. Un po'. Bravo.